Sono Lucrezia Nicolazzo e lui è Nicola Butera. Siamo due giovanissimi soci della Cantina Petrania e ci siamo avvicinati al mondo del vino con grandissimo entusiasmo. Speriamo che questa nostra avventura possa crescere nel tempo e far conoscere questo nostro vino anche al di fuori della nostra regione e perché no anche al di fuori dell'Italia. Grazie per la visione!